Dopo aver contestato l'uomo Iervolino lo scorso inverno, dopo il rifiuto dell'imprenditore di Palma Campania di incontrarli, ieri gli Ultras della Salernitana hanno chiarito che il corteo partito dal nuovo teleconclusosi alla Rechi aveva come obiettivo quello di protestare contro il presidente della Salernitana. Ieri Iervolino è stato contestato per il suo ruolo di massimo dirigente e proprietario del club Granata. I circa 500 partecipanti al corteo hanno chiesto a un presidente che rispetti la città e che riporti la squadra in massima serie laddove l'ha presa nel 2022. Perché ieri Iervolino nel giro di pochissimo tempo abbia perso entusiasmo e la domanda che si rincorre e che ricorre e che non trova risposta se non in maniera parziale, ossia quando si tira in ballo il rapporto con la politica. mercoledì sera non sono passati inosservati i due distinti comunicati con cui il sindaco di Salerno e l'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan hanno informato la stampa ed in generale la cittadinanza dell'incontro avvenuto a Palazzo di Città dopo la conferenza stampa in cui erano stati presentati Martuscello, annunciato ufficialmente poi ieri dalla Tribunata, e Petrachi. Il sindaco Napoli solo ieri mattina ha poi chiarito che in via ufficiale la Salernitana non abbia ancora richiesto la disponibilità dello Stadiarechi per gli allenamenti. Insomma, la PEC sarebbe pure partita ma mai giunta all'indirizzo dell'ente comunale. In tutto questo, mentre si attende di sapere se e quando cominceranno i lavori per Volpe e Darechi, i tifosi vorrebbero certezze e risposte concrete dalla società. Petrachi ha parlato chiaro, ieri Iervolino e Milan in conferenza avevano cercato di dare un'immagine nel club un po' meno offuscata, meglio però dire le cose come stanno e far capire ai tifosi che non c'è al momento l'intenzione di rilanciare e di sedersi al tavolo delle potenziali big del campionato cadetto. Si parte a fare i spenti, senza proclami, sapendo che ci saranno sangue, lacrime e sudore, ma non è detto che umiltà e voglia di sacrificarsi non possono essere armi vincenti, anche grazie al mercato furbo che ha in mente Petrachi. Inutile il volere salvare le apparenze, meglio una società che abbandoni giacca e cravatta e si rimbocchi le maniche, che mangi pane e salame e che sposi la linea del rigore senza vergognarsene. Non è più tempo di lustrine e paillette, non è più tempo di cuoricini e sfilate sotto la curva, ma non è certo di questo che i tifosi hanno bisogno. Forse queste cose servivano ad altri. Il tifoso ama e soffre e chiede solo rispetto ed impegno, ed è per questo che i VIN 500 hanno sfilato e cantato, rappresentano il pensiero di tantissimi altri.